Sì, record di punti e vittoria del campionato, oggi Guerra è andato in doppia cifra, anche lui con la presenza di oggi è diventato il giocatore più presente per Alcic, quindi tanti record, tante cose, l'importante è aver vinto il campionato, l'importante è vedere tanti tifosi che ci hanno venuto oggi, speriamo di rivederli lo stesso l'anno prossimo, noi abbiamo bisogno del sostegno, siamo una piccola realtà, che però tutti assieme siamo capaci di cose, di grandi imprese, l'abbiamo incontrato quest'anno, quindi abbiamo bisogno l'anno prossimo di andare di nuovo tutti assieme contro cantate e squadre di grande valore. E ecco anche l'altra cosa, addio al calcio di Elia, è venuto tutto perfetto, abbiamo fatto la seconda dimension, abbiamo fatto l'ultima gara vincendo, vincendo il campionato, quello del lavoro migliore per lui per finire la carriera e adesso sono sicuro che diventerà anche un altro intelligente perché ha delle qualità morali indiscutibili. Grazie 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 Grazie